Come prima cosa volevo partire da un concetto che viene espresso da Umberto Eco nel documentario in cui si parla di la coincidenza tra la biblioteca e l'identità. Mi sembra che sia stato forse questo anche per lei il punto di partenza per il film? C'è questo discorso che Umberto fa sulla memoria come identità, cioè dice noi siamo noi perché ci ricordiamo quello che siamo stati. E trasponendo a un livello collettivo la cosa la memoria individuale e la memoria collettiva delle biblioteche. Quindi è lì che ci sta l'identità di popoli, di gruppi, di comunità, eccetera. Quindi è quella storia lì che bisogna andare a capire. E infatti credo che uno dei problemi di oggi, che è proprio quello dell'identità di cui si parla tanto, ma che è quantomeno fluida, anche laddove ci sia molta ideologia applicata, forse proprio perché ce n'è troppa, cioè questo, cioè che abbiamo perso, avendo perso il rapporto con i libri, perso il rapporto con la memoria e si viaggia su questa superficie molto incerta che chiamiamo modernità e che ha nel web, direi, la sua realizzazione perfetta. E sempre rimanendo all'interno di questo discorso, quali parti dell'identità di suo padre, secondo lei, emergono in maniera più forte e che l'hanno forse anche resa più contento e più soddisfatto di questo lavoro nel film? Direi sicuramente, scusate, la curiosità irrefrenabile e varia e anche un pochino indisciplinata, possiamo dire, con però, cioè, poteva buttare i libri qui e là e su per terra, su una pire, però si ricordava sempre dove era, tutti. Ecco, questa velocità, questa vivacità nel gestire la propria memoria delle memorie collettive contenute nei libri era la cosa che è venuta meglio fuori nel film, secondo me. Una cosa che mi è piaciuta molto è che nella selezione, immagino, su un numero cospicuo di ore di repertorio che avrete visionato per la realizzazione del film, ma si punta molto sull'aspetto più, ovviamente sempre intellettualmente, ma più ludico della personalità di Eco. Come mai questa scelta? Ma credo che la cosa che contraddistingueva Eco dagli altri grandi intellettuali era la lucidità di pensiero, la semplicità nel esporre concetti complessi e però anche questa sempre ironia e autoironia nel momento in cui esprimevi la complessità di quello che avevi pensato. E lui su questo, devo dire, credo che anche la sua, non so prego, che ci ho mai pensato, ma la sua attività di professore con gli studenti, insomma è un palcoscenico con un pubblico, un professore che pare agli studenti. A me si è elaborato una tecnica di cui era molto consapevole e che vedi all'opera in tante interviste che ho visto, per cui lui sapeva anche intrattenere, era un grande entertainer culturale, ma non nel senso che fosse un divulgatore, non mai stato un divulgatore in quel senso, ma sapeva raccontare le cose, ma non tanto le storie, ma i concetti, era una cosa particolare. E quindi quando mi imbattevo nelle ricerche in qualche cosa di questo genere, piuttosto che avere il pensiero forte, credo che sia formidabile, quel pezzo in cui lui racconta come usa il telefonino cellulare, che ce l'ho ma lo tengo spento e ti spiega perché. Quello veramente valeva, sembrava una bustina di Minerva, però messa in scena insomma. Dei tantissimi spunti e concetti che emergono dal film, ce ne sono due che mi hanno colpito particolarmente, per via, secondo me, della fortissima risonanza che hanno nel presente, pur essendo stati espressi oramai, insomma, un numero discretamente cospicuo di anni fa. Il primo riguarda il surplus di informazione al quale tutti noi siamo sottoposti. Il secondo è quella liminale soglia che divide l'invenzione, quindi la narrazione, dalla menzogna. Volevo capire da lei come mai questi due elementi, che mi sembra che risuonino in maniera particolarmente forte, e invece da lei se voi avevate consapevolezza in qualche modo della lettura, no? Non dico profetica, ma comunque con una capacità di visione a lungo raggio così forte da parte di Umberto. C'è già io? Devo dire che proprio appunto, guardando ore e ore di materiale, la cosa che ci sorprendeva a me, la montatrice Cristina Sardo, era proprio questo, la modernità di tantissime cose da temi vari vent'anni fa, o forse anche più. Ci sono certi formati, il segnetto è quello del drop del VHS, cioè roba di fine anni 90 in cui lui parlava della troppa memoria in circolazione e quindi della conseguenza di perderla davvero. Cioè lui aveva già visto una cosa che è diventata secondo me chiarissima in questi anni di pandemia e di guerra, quando lui diceva esiste, una volta c'era un'enciclopedia comune condivisa, sulla quale la gente si confrontava e si affrontava. Con il web esiste la possibilità che 6 miliardi di persone si facciano la loro verità personale ed è la fine della comunicazione. È quello che abbiamo visto, non così radicalmente, ma come tendenza all'opera della pandemia, con la messa in discussione della scienza e della verità stessa. Non dico i terrapiattisti pure citati nel film, ma ormai davvero non esiste ahimè un concetto di verità perché ognuno si fa la sua verità privata. E questa cosa lui l'aveva vista veramente vent'anni fa, ancora in un momento in cui era solo un sospetto per molti. Difficile dire se da ragazzi si vedeva l'aspetto profetico, però nel 78 c'era in casa un computer con i floppy disk, non era in quasi nessun'altra casa. In qualche modo era naturale che le cose, le visioni, l'informazione in casa girassero molto. Era naturale, però tutto condito da abbondante buonsenso, quindi senza dichiarazioni di principio, semplicemente nei fatti. Se posso aggiustare una cosa su questo, una cosa che non è finita nel film, che ha a che fare col cinema, che è interessante questo, è la stessa pezzo d'archivio in cui lui racconta di tua sorella che vede la televisione e c'è tutto questo gioco sul vero e sul falso affascinante, ma c'è un altro pezzo di quell'intervista in cui lui fuori dal Festival di Venezia di non so quanti anni fa con Gillo Pontecorvo, quando era Pontecorvo presidente, 1981 perché c'era anche io, eccola, e parlano degli effetti speciali, era appena uscito un film di James Cameron, credo, True Lies, e Pontecorvo diceva, ma con questi effetti speciali il cinema hollywoodiano ammazzerà l'altro, il cinema è indipendente perché occorrono soldi per farli, era il classico ragionamento da intellettuale di sinistra che poteva fare uno come Pontecorvo. E Umberto invece lo vuole dire, ma no, ma no, perché non sarà così, perché poi questi effetti speciali diventeranno sempre più, sempre meno costosi, sempre più diffusi, li utilizzeranno tutti, è quello che è successo, è quello che è successo con i telefonini, con Photoshop e tutto il resto, e lui l'aveva già visto arrivare lì, sta cosa qua, mentre tutti quegli ideologi pensavano, la vedevano in una maniera politica, ideologica, lui l'aveva vista invece come linguaggio e come possibilità di apertura di cose. In quel senso davvero è profettico, ma i profeti li scoppiano 40 anni dopo, perché quando parlano nessuno li capisce veramente.